Le poche note che avete appena sentito vengono dall'organo della nostra chiesa cattedrale appena restaurato. Ebbene, in preparazione alla festa di San Catello vivremo un altro momento importante per la nostra comunità ed è l'inaugurazione dell'organo restaurato, un'opera eccezionale di recupero e finalmente venerdì prossimo alle 19.30 alla presenza del nostro arcivescovo ci sarà questa cerimonia di inaugurazione, quindi un momento di preghiera e poi ci sarà un concerto inaugurale. Credo che sia un momento bello che si inserisce ormai una storia di impegno, di recupero, in cui cerchiamo di valorizzare il nostro patrimonio religioso, storico, culturale. Pensando in questi giorni pensavo anche in Ucraina, queste scene terribili di guerra, pensavo che in quel contesto anche di guerra, di violenze, di cose bruttissime magari sono delle orchestre che suonano. Quello è un modo per affermare a volte in un tempo difficile l'importanza della cultura, l'importanza della bellezza, l'importanza di un'armonia legata comunque al bene. Credo che sia un modo per dire oggi noi siamo per la pace. La cultura è anche una forma di aiuto a elevarci perché pensiamo al nostro contesto, spesso la povertà non è solamente quella materiale, ma la povertà è anche quella culturale, esistenziale. Quindi a volte quello che andiamo facendo, anche un recupero di un organo oppure il recupero di una tela che viene restaurata, non è qualcosa di nicchia, qualcosa che interessa pochi, ma credo che sia anche questo un importante servizio sociale. Allora vi invito, vi invito a venerdì prossimo 19.30 qui in Cattedrale a Castellemare, vivremo questo momento, credo, bello. Poi chi verrà, vedrà.